Seconda corsa a premio Idalgo Vinci, è un miglio per gli anziani, sono in 11 al via, la prima fila per Di Galoppo prima del via il 5 di Oromask, allo stacco emerge Penelo Petrio, in seguita Da Orfeo Dete, quindi Patroklomask che scavalca Pisana Noffa, al cui esterno c'è Picasso Rivarco Mentre Orfeo Dete insiste all'attacco di Penelo Petrio che si oppone, Picasso Rivarco nel frattempo Affianca Patroklomask a precedere Pisana Noffa, Oglie e Brid, Pantera del Pino all'esterno Nel frattempo il quarto iniziale è addirittura in 28.3 con il quale Penelo Petrio respinge Orfeo Dete Che si accoda davanti a Patroklomask, Picasso Rivarco all'esterno che è in scia Pantera del Pino Pisana Noffa alla corda davanti a Oglie e Brid con all'esterno Plinio Mail Con Penelo Petrio che cerca ora di graduare dopo aver respinto il duro attacco di Orfeo Dete C'è il frattempo, c'è l'errore di Plinio Mail Picasso Rivarco gradatamente va a prendere contatto con il leader che completa il mezzo miglio iniziale in 59.8 Picasso Rivarco ora è al Salchi di Penelo Petrio Trascinandosi Pantera del Pino che affianca Orfeo Dete Poi accenna la terza ruota al completamento del primo giro da 1.15.7 Passa Picasso Rivarco subito inseguito da Pantera del Pino che insiste Poi l'avanzata all'esterno di Pisana Noff Pantera del Pino a sua volta prende il sopravvento su Picasso Rivarco Poi si ripropone dalla corda Orfeo Dete in anticipo su Pisana Noff Ma Pantera del Pino ha preso vantaggio sugli avversari E affronta con alcune lunghezze la retta di arrivo Quando siamo ormai a 150 metri alla conclusione Pantera del Pino è in chiarissima evidenza Nei confronti di Orfeo Dete Poi ancora Patroclo Mask che si è liberato dalla corda Così come Ollier Breed Pantera del Pino che conclude netta Nei confronti di Patroclo Mask che tiene a bada Ollier Breed Mentre è relegato solamente al quarto posto Orfeo Dete E dunque 9.32 dovrebbe essere l'arrivo ufficioso Della seconda di Capannelle 1.59.7 sul mio cronometro per Pantera del Pino E René Legati 1.14.8 Pantera del Pino partendo in seconda fila Non ha speso il parziale nella fase iniziale Ma ce l'ha avuto per i 600 metri conclusivi Ha prima debellato Picasso Rivarco E poi ha vinto isolata Rivediamo il suo netto primo piano Mentre la volata per il posto d'onore Vede emergere il numero 3 di Patroclo Mask In anticipo su Ollier Breed Con Orfeo Dete al quarto posto E dunque vi ripeto 9.32 L'arrivo ufficioso della seconda di Capannelle In anticipo su Ollier Breed